Siamo tornati su Minecraft, Fornet e Ferrettina e abbiamo un po' di novità Allora, siamo rimasti a Tilted Towers, quindi a pinnacoli pendenti perché è troppo bella la città E volevo rifare un duello in questa città appunto Però abbiamo qualche novità La prima è che avremo delle ceste di rarità diverse che indicheranno che cosa troveremo dentro In quelle grigie troveremo le munizioni, in quelle gialle troveremo le cose per curarsi, per darsi scelta e tutte quelle cose Che c'è Fere, scusami? Non te me lo ricordo Ho capito che c'è Fere, è qua! Sì Stef, non me lo ricordo È qui! Eh lo so, ma me lo dovrei ricordare a memoria, come faccio? Vabbè, ma non è che... È noiosa La seconda novità è che abbiamo utensili e blocchi, in questo modo potremmo costruire come su Fortnite per proteggerci dall'altro Che secondo me comunque è una cosa carina e sensata In effetti perché non ci avevamo pensato a costruire anche un altro Ah, non lo so Fere, ogni tanto le cose più semplici non le pensiamo Ok E per il resto, beh, più o meno siamo così Ah, un'altra cosa, questa volta partiamo senza armatura e ci sono pochissime ceste in giro Giro per la città che danno l'armatura Ah, quindi più difficile, va bene Esatto, esatto Dovrei stare molto attenta E se è così carica e portentosa, è pronta? Oh sì, dai, ci sta Sei sicura? Meglio di essere depressi, Stef, vai Vuoi partire? Vai Andiamo? Qui Ok, vediamo in che zona va No Non mi guardare Dove stai andando male? Ma, ma Non mi ricordavo come funzionava? Ho avuto un infarto Mi giro per vedere dove stavo andando e lo vedo precipitare a picco come un salame, Stef Ricordavo forse doppio spazio, ma quello è il nuovo jetpack di Fortnite Ma che schifo Mi sono confuso Cavolo Quasi morto Per fortuna non ho preso danno Allora, ok Facciamo tipo così Le munizioni non ci servono nell'inventario, lo sappiamo benissimo Potremmo fare così E iniziare a ricaricare questo E siamo già armati di fucile a pompa qua Io sono caduta su un tetto e non so come scendere, Stef Vabbè, Fede, hai un piccone, hai dei blocchi Sì, sì, ma se blocco il tetto, cioè, è molto profonda la caduta, capisci? Ma è buca in un lato dove è tutto a colonna, così ci sono sempre Ci provo, ci provo, dai Vai, ce la puoi fare Ma dimmi te Poi prendi in giro Stef e fa peggio Uh, ma questo Ok, ok Quasi morta solo per questo lancio che ho fatto, bene Perfetto Allora, allora, allora Mentre i consolini, comunque, una cosa importante Continuate a consigliarci nei commenti come migliorare questa sorta di Fortnite su Minecraft Così noi costantemente l'aggiorniamo insieme all'assistente segreto e la rendiamo sempre più figa E ovviamente iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina che sto periodo non funziona bene Quindi se volete vederveli questi video vi conviene Ehm... Dove cavolo trovo altre armi? Non mi ricordo più i punti delle ceste Fede, almeno sei scesa? Sì Ok, perché non è divertente sparare una che è incastrata come un salame sopra Un palazzo Questo l'ho credito Non è piacevole Allora, lì di sicuro c'è la babella Perché l'ho sentito così vicino la tua ricarica? Non lo so Ah, ci siamo dimenticati di mettere la cosa per nascondere i nomi Siamo stati persone brutte Fede Fede Vado a zig o zago Vado a zig o zago Mi sembra molto smirata la tua arma Mamma mia sei smirata Che cos'è? Ehm... Quella K Quello strano La 74 grutta? Sì, la mitraglie Ah, zero eh Ma che schifo Guarda che sto prendendo roba forte È penosa sta roba No, me ne vado Cioè, davvero Non fa È una tristezza infinita usare quest'arma Perché davvero smira Voglio armi più belle però Stef Questo è un miglioramento Le armi più belle No Ok Eh, ci sono armi più belle Fede Però sono ben nascoste, cara Sono ben nascoste Trasparente che c'è? Eh, l'armatura L'avevi già presa tu Allora C'era il vuoto Io non ho ancora un'arma Eh, manco io Per sparare Fede Tipo so che ci sono gli scarra adesso Ad ascia, Stef Uff, meno male Ok So per ucciderti ad ascia Posso trovare un fucile d'assalto? Posso? Por favor Vediamo qua Vediamo qua Se non l'ha ancora aperta lo Stef Cavolo Stef Ma ti sei spazzolato tutto Stai facendo il mio stesso giro Ma porca miseria Fai schifo Ok Dai, non puoi essere andato anche lì giù Ma potrei fare double pump? Smettila, Stef Non funziona qui il double pump Vediamo Ok Ok Allora, aspettate Secondo me va Io non ho ancora capito bene quest'arma Ma va bene Qua ci dovrebbe essere uno cesto da qualche parte Sì, salendo qua sopra Ok Dai, qualcosa di decente Ah Pensavo di aver trovato l'RPG Ah, pure quello hai messo? Eh, sì Però non l'abbiamo trovato Poi l'ha messo l'assistente segreto Fede, non l'ho messo io Ok Io gli ho letto di metterlo Ah, vabbè Quindi stacco comunque tu Più o meno Allora, io sono armi schifose, Stef No, perché ho preso da Quindi non sarà un bel fight No, per niente Ok Ok Ok, perfetto Perfetto, perfetto, perfetto Cosa hai trovato? Una cesta super piena di cose Ma proprio infinite Stacco di colpi Medikit Bello, 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 bello Io avrei bisogno di salire lì Vediamo Io voglio infatti mettermi questa arma nella barba C'è una scala Perché secondo me è una bella arma C'è Perché secondo me qua sopra C'è un bel po' di roba Ah, Fede, è un casino Non sto trovando l'equipaggiamento che vorrei E Fede non sembra che possa dire lo stesso Dove sei, Stef? Ho un'idea No, la mia partita Adesso vengo a cercarti Cosa hai trovato? Non te lo dico No, devi dirmelo Hai lo scar? No, non te lo dico L'RPG? Non te lo dico Dai, non puoi vedere l'RPG Quando ti ucciderò lo capirai No, Fede Mi mette ansia così Appunto Sto andando velocissimo Stef No Dove sei? Non mi interessa Non ne voglio pesci Sì No, no Vieni, Stef Una bella pizza per te Non la vuoi? No, no Niente pizza oggi Non sei maledetto Niente pizza oggi Dove si starà nascondendo? Questa è una tattica da proraga Dove stai andando, Stef? Stai salendo da qualche parte? No Che noioso Non mi vuole mai affrontare Vediamo se qua trovo qualcos'altro Cos'hai trovato, Stef? Dai, so che vuoi che qualcuno te lo chieda Niente, Fede Niente Quando morirai lo scoprirai Maledetto Io non morirò Quindi non lo saprò mai Ci sta Allora, poi Qua sono le scale per salire Da qua Potrei Andare Dove ci potrebbero essere altre ceste? Stai scrivendo Non ho ancora trovato le ripigie Neanche Fede Eh, chi lo sa Sei zitto Quindi mi hai visto Dove sei, maledetto? Non ti interessa Sono entrata dentro un edificio Quindi non mi puoi continuare a sparare Uh Tu dici? Bello, bello Ho trovato una cosa bellissima Cosa hai trovato? Un'altra cosa bellissima Ma te hai trovato una cosa bellissima? Sì Ok, allora, raga L'armatura, Stef Eh, ma io ce l'ho già dato tutto il tempo Io non l'ho ancora trovata Allora Perché non trovo scale? Voglio salire su un palazzo Perché non trovo scale, Stef? Dove sono le scale in sto posto? No, non ci sono Come non ci sono? Ho vinto! Su forno e se si cade e muore Cioè, se si muore cadendo Sei morti, Stef, eh Perché non si può salire sui posti? Facciamo finta che non sono caduto, sì? No, sei caduto No, no Se vuoi continuiamo per ucciderti anche con le aree Dai, Fede Fai da brava Però sei caduto Fai da brava Non sono caduto Allora Tutto a posto? Sto bene, grazie Sì, Fede Fede? Fede? Perché fanno tutte sc... Non guardare dove sono! Non ho ancora visto dove sei Ma l'aspetti? Cioè, ti sembra che devi aspettare sul mio cadavere? Sì Bigliacca Però c'è Sono troppo mirata queste armi Non va bene Ho già finito i colpi poi Allora Facciamo così Ho già finito i colpi Facciamo così Allora, questo è carico Questo è carico Devo trovare un cavolo di mitra Mi stai inseguendo? No, non ti stai inseguendo Ma so dove sei Beh, quello non è che ci vuole molto No, ma per logica so dove stavi andando Ti stavo sparando dall'alto Quindi ti ho visto muovere Esatto Però Eri sopra la torre Tu mi sa Porca miseria Vieni qua maledetto Porca miseria Vieni qua Che devi morire Stefino Anche è iniziato a piovere Dai, esci fuori Dai, ma è troppo buio qui dentro Non c'entra Stef Vattene allora Vattene Se tu te ne vai io me ne vado Oh, pazza Dai, ho finito tutti i colpi Che schifo Perché non ci sono colpi in to' gioco Fa schifo, Stef Ma non avevi il fucile a pompa? Sì, ma doveva ricaricare Ah, ok Poi cavolo, lo scar 20 colpi Dove me li metto 20 colpi? Sto smirate a schifo Queste armi Prossime Come dovrebbe colpire una persona? Come, Stef? Io me ne volevo andare pacifista Affrontarti dopo un po' No, basta, basta, basta Ma che bene No, Fede Vieni qua, dai No Dai, facciamo Allora, io mi prendo le armi qui sopra No, non puoi Quelle non vagano Il medikit Non sono per te quelle Dove sono i colpi? Eccoli qua Fede che posso tornare lì sopra E sai che non puoi scendere, vero? Non c'è un deltaplano lì Sì che posso scendere E come fai a scendere, Fede? Posso scendere a ucciderti Sto volando, Stef In un altro modo Ma sto volando Ma dov'è? Ancora vedo Mi fermo qua E ti aspetto Sopra c'è una chest Cosa trovo? Niente Come hai fatto a salirci? Impossibile Mi sono lanciato dalla torre Con il deltaplano fino a lì Ah, ok Lo so Dov'è, Stef? I'm too good for you Dov'è? Ti ho preso? No Esci fuori No Però so dove sei Tu sei dove sono? Sì, ti ho visto E ti vedo muoverti, balosso Where are you? Stai sprecando colpi, Stef Ti muovi come i nabbi di Fortnite Che fanno movimenti a casa Ed è impossibile cechinarli E quello è il trucco Ma che trucco Se non fai movimenti Se fai movimenti prevedibili È ovvio che ti acchiappano Ok Ok Voglio il trampolino Dai, Stef Sono penose queste armi Ti prego Prossimo video Mi cambi le armi Cioè sono un qualcosa Di impossibile Cioè perché ti ho sparato Se sono tornata indietro Perché ti ho aiutato io Io potevo sparare Mentre sale vivo Che schifo Non ha senso Qua sotto compaiono altri video Proponete Io stavo pensando tipo di fare Tipo una modalità Solo armi esplosive Qualcosa del genere Sempre qua Ti intente Che secondo me è stra divertente Quindi proponete un pochettino Che cosa vorreste vedere Iscrivetevi al canale E cliccate la campanellina Mi raccomando E ci fermiamo Così